Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Tony, se vi state chiedendo perché non ci sono rotoli di persone buone, perché non esistono? E' un anno, è un anno quasi che stiamo cercando di regalarvi questo gioco e alla fine siamo arrivati praticamente a Natale 2020, l'anno più divertente di tutti che spero possiamo rivivere per anni ancora. Mi è piaciuto questo 2020, ma non è ancora finito, quindi ci potrebbero essere altre sorprese. Una di queste sorprese è Cyberpunk 2077. Ragazzi, vi regaliamo Cyberpunk 2077. Come si fa? Allora, intanto ci tengo a precisare che avete avuto tempo, avete avuto tempo per parteciparvi e se siete arrivati ora mi dispiace, ma ci sono comunque dei sistemi per parteciparvi ancora, che adesso vi spiego. Dovete avere 40.000 punti canale per entrare a far parte della lista dei partecipanti che c'è sul nostro disco, sul nostro server disco, che vi invito a iscrivervi, ragazzi, così vedete tutto quanto. Sul server vedrete la lista dei partecipanti, siete anche pochini rispetto all'altro contest che era quello su The Last of Us, quindi buono, bene. Ci sono alte probabilità di vincere, in realtà sono sempre quelle, però vabbè, io tengo alti gli spiriti. 40.000 punti canale, i punti canale si ottengono guardando le live, ragazzi. Dovete essere presenti live per tenervi aggiornati ovviamente su quello che succede nel canale e per guadagnare punti canale. Fine. Altrimenti dovete subarvi al canale. Quelli già sub partecipano in automatico, perché ragazzi ci date una mano economicamente parlando, quindi noi ci sentiamo di ridarvi qualcosa, facendovi partecipare in automatico al contest. Quindi chi è sub al canale, in automatico la lista dei sub viene scaricata e messa dentro la lista dei partecipanti al contest. Quindi proprio pulitissimo. Utilizzate Amazon Prime, che vi dà la possibilità di iscrivervi a un canale gratuitamente, quindi non state lì a spendere soldi, ragazzi, per se puttanate. Siamo dei truffatori. È tutto, è tutto, è tutto finto. Non state a spendere soldi per noi. Metodo di estrazione. Come si estrae? Si prende la lista, la si copia e incolla su uno di quei canali, uno di quei programmi che ci sono su Google, che vi permettono di estrarre a caso da una lista un nome. Niente di che. Non abbiamo server, non abbiamo database, non abbiamo nulla. Prendo, copio, metto su uno di questi siti, schiaccio il tastino, chi ci c'è fuori ha vinto. Fine. Però ci sono delle regole. Allora, intanto dovete essere presenti alla live, perché se poi tu esci e non ci sei in live, o il cazzo che ti regalo il gioco. Vieni in live durante l'estrazione, appena hai vinto il gioco, ci comunichiamo, non i dati personali, ovviamente perché non sto lì a, insomma. Però poi privatamente ti dico, guarda, fine live, ti contattiamo, ci scambiamo i dati, tutto quanto ovviamente su Discord, quindi dovete essere iscritti a Discord, ragazzi, perché altrimenti come cazzo facciamo a darci i dati? L'unico modo più veloce e più sicuro è Discord. Scrivetevi a Discord. Ci si passano i dati privati. I dati privati si intende abitazione e basta, e nome e cognome, a chi dobbiamo spedire il pacco, perché da Amazon facciamo il regalo, quindi ci serve per forza il vostro indirizzo, roba che poi ovviamente verrà cancellata, non abbiate paura, e faremo due estrazioni. La prima è il vincitore, la seconda è di sicurezza, perché se per caso il vincitore non c'è in quel momento, quindi Giovanni ha vinto, Giovanni ci sei? No, perfetto, seconda estrazione. Poi se non c'è neanche il secondo, siete dei pezzi di merda. Perché poi appunto anche il secondo nome? Perché mettiamo che Giovanni non ha una casa e io non gli invio il gioco, mi pare anche ovvio. Quindi passiamo direttamente al secondo nome, perciò faremo due estrazioni, la seconda è di sicurezza. Quello diciamo di sicurezza, l'estrazione di sicurezza è che un po' si senta avvilito e sconfitto. Mi dispiace, però la vita funziona, potevi essere il primo, sei solo arrivato secondo. Godo. Detto questo ragazzuoli, che altro c'è da dire? Oh mio Dio, non ho i capelli. Che cazzo è sta roba? Detto questo ragazzi, grazie, grazie per aver partecipato al contest, grazie che vi siete iscritti al canale, grazie, non è che sta chiudendo il canale, semplicemente grazie, è arrivato il momento dei ringraziamenti e quasi più di un anno che io e Andrea abbiamo aperto il canale, siamo felicissimi di come sta andando, grazie mille, grazie a voi che possiamo fare questi eventi nella quale noi ci divertiamo un casino, perché ci fate divertire un sacco, ci tenete in compagnia anche in questo periodo di merda, che è per tutti un periodo di merda, costretti, chiusi in casa, chi più e chi meno, ma grazie a voi ragazzi, tutto quanto fila liscio e rilassante, quindi gentilissimi bestiacci e voi fate compagnia a voi, tanto quanto noi facciamo compagnia a voi, ricordatevelo sempre, buona fortuna, buona fortuna per il contest e noi ci vediamo stasera alle 21.30. Che la Dea Bendata vi assisti, oppure no?